Stile, funzionalità e prestigio. Il Breitling Navi Timer World. Il Breitling Navi Timer World è un cronografo da pilota e offre una serie di caratteristiche distintive, tra cui un regolo calcolatore circolare, una funzione GMT e un movimento meccanico a carica automatica. Il Breitling Navi Timer World fu lanciato nel 1952 da Willy Breitling, nipote del fondatore dell'azienda orologera svizzera. Il nome Navi Timer è una fusione di navigazione e timer a sottolineare la sua capacità di eseguire calcoli di volo essenziali per i piloti. Questo orologio da polso era dotato di un regolo calcolatore circolare, uno strumento che permetteva di effettuare calcoli complessi come la conversione delle unità di misura, la determinazione della velocità, il consumo di carburante, la distanza percorsa e l'altitudine. Nel 1962, una variante del Navi Timer chiamata Cosmonaut, fece la sua prima apparizione nello spazio, indossato dall'astronauta Scott Carpenter durante la missione Aurora 7. Nel 2012, in occasione del sessantesimo anniversario del Navi Timer, Breitling presentò il Navi Timer World, una versione con una funzione GMT che permetteva di leggere l'ora in due fusi orari contemporaneamente. Il Navi Timer World presenta un diametro di 46 mm e un quadrante con una lancetta supplementare a punta rossa, che indica l'ora in formato 24 ore su una scala interna. Il vetro zaffiro bombato, con trattamento antiriflesso su entrambi i lati, e la corona a vite garantiscono la resistenza all'acqua fino a 3 bar, 30 metri. Il cinturino del Navi Timer World è altrettanto versatile, disponibile in vari materiali tra cui pelle, acciaio inossidabile, oro rosa 18 carati e cauccio. La fibbia può essere a scatto o a deploiante, offrendo una varietà di opzioni per adattarsi a diverse preferenze. Il Breitling Navi Timer World è un orologio adatto a ogni occasione, sia professionale che personale, e che esprime la personalità e il gusto di chi lo indossa. Grazie a tutti.